Possiamo, come possiamo rilassare la nostra mente in modo autogeno? Dobbiamo sfruttare le tecniche dallo yoga che provengono dalle discipline orientali che ci permettono di entrare in un profondo stato di rilassamento mentale e quindi quando siamo mentalmente rilassati stiamo più in armonia con noi stessi e con gli altri. Un modo molto semplice è quello di utilizzare le tecniche immaginative attraverso quella che viene chiamata una saturazione sensoriale, cioè per mandare a dormire, tra virgolette, a riposare la nostra parte cosciente, logico-razionale, che è quella che si stressa perché la parte emotiva di suo non si stressa, e dobbiamo saturarla di situazioni che non siano situazioni stressanti e quindi perché sfruttiamo il fatto che la nostra parte logico-razionale ha una capacità che è la memoria a breve termine, in grosso modo molto limitata, per cui se la saturiamo con immagini rilassanti tenderà a vivere il rilassamento e non ci sarà posto per lo stress perché è come un bicchiere, se lo riempio di qualche cosa, di un liquido, non riesco a infilare anche un altro liquido. Quindi dobbiamo mettere dentro la nostra testa il liquido rilassante e è molto rilassante quindi utilizzare l'immaginazione. Ma cosa dobbiamo immaginare? Intanto dobbiamo chiudere gli occhi, ascoltare prima il nostro respiro e immaginare tranquillamente, mentre sei con gli occhi chiusi, tranquillo e rilassato, che ad ogni respiro un raggio di luce penetri dentro la tua mente. E adesso una cosa molto interessante è quella di aggiungere dei colori. Un raggio di luce colorato penetra dentro la tua mente e inizia a colorare tutto il tuo corpo. E questi colori possono cambiare. Inizialmente sono colori più freddi come il blu, l'azzurro, il verde. Ma se ti accorgi, piano piano, ad ogni respiro, questi colori diventano sempre più caldi. Passano al giallo, all'arancione, al rosso. E prendono completamente tutto il tuo corpo. E puoi osservare dall'esterno il tuo corpo colorato, di tutti questi colori. E adesso puoi anche osservare l'ambiente circostante. Sempre con gli occhi chiusi, con gli occhi della mente. E mentre osservi l'ambiente circostante, puoi anche qua renderti conto che puoi modificare le immagini, puoi ingrandirle, puoi rinficiadirle, puoi colorarle. E questa volta puoi scegliere il colore che preferisci. E puoi usare l'immaginazione per cambiare tutto ciò che vuoi cambiare. Puoi rifare completamente all'interno della tua mente il look al tuo ambiente circostante. Come se fossi un regista. Puoi utilizzare tutta la tua creatività per modificare ciò che vuoi modificare. E all'interno della tua mente tutto questo potrà modificarsi. E noterai che mentre fai questo, e sei sempre in una posizione comoda, tranquilla, con gli occhi chiusi, un rilassamento profondo aumenta sempre di più dentro di te. Questo rilassamento prende ogni cellula del tuo corpo. e diventi sempre più tranquillo, rilassato e felice. Tranquillo, rilassato e felice. E via via che ascolti il suono della mia voce e respiri, diventi sempre più tranquillo, rilassato e felice. Tranquillo, rilassato e felice. E la tua mente respira. E diventa come il respiro del mare, come il respiro dell'universo. E quando hai fatto tutto questo? Per il tempo necessario. A sentirti bene, tranquillo, rilassato, in armonia con te stessi e con gli altri, prendi tutto il tempo che ti serve. E poi, tranquillamente, dolcemente, rendendoti conto di essere in armonia con te stessi e con gli altri, puoi tranquillamente aprire gli occhi e rifare ogni volta che desideri questo esercizio. Questo è un esercizio molto semplice che sfrutta appunto la saturazione della mente cosciente con colori, il colore, la vibrazione, energia e frequenza che ci possa dare veramente un rilassamento mentale autoindotto, autoprodotto. E si può fare veramente in 5 minuti. E questi 5 minuti potranno corrispondere veramente a un grosso training, ad esempio, di tecniche di altra natura, di yoga, di quello che è. Basta prendere queste buone abitudini per vivere veramente meglio, in armonia, con se stessi e con gli altri. Bene, ti do appuntamento al prossimo video, ti invito a seguirmi su blog htbtvv.com. Ciao!